Come si è concluso il vostro allenamento qua a Livigno? Quest'anno è stato davvero magnifico. C'è stato il sole più o meno ogni giorno. Abbiamo fatto tutti gli allenamenti in programma e le persone qui si sono prese cura di noi. L'hotel Bivio è il posto migliore dove stare a Livigno, quindi credo sia la migliore preparazione e potessimo sognare. Ti stai preparando per le Olimpiadi? Sì, è l'obiettivo principale. Ti stai preparando per vincere la terza medaglia d'oro? Se posso scegliere, sì, certo. È sempre un pensiero importante quello di essere nella posizione di conquistare la medaglia e credo che siamo pronti a combattere per questo. Gareggerai nel singolo o nel doppio? Questa volta nel doppio. Nelle ultime tre Olimpiadi ero solo nel singolo, quindi credo sia tempo di fare qualcosa di diverso e credo che le nostre possibilità siano migliori nel doppio perché siamo piuttosto bravi. Non siete qui con tutta la squadra, ma chi parteciperà alle Olimpiadi? Al momento siamo qui solo in due perché a molti dei nostri compagni di squadra non piace la quota, per cui loro sono a Varessa e noi siamo qui a Livigno proprio per l'altitudine e sappiamo che è la cosa migliore da fare per essere preparati per Rio. Qui hai trovato la tua forma migliore? Credo che la mia forma migliore sia proprio dietro l'angolo. Quindi sei pronto per lasciare Livigno? Sì, sono pronto, ma sono triste di andarmene perché questo è davvero un posto bellissimo e mi è proprio piaciuto trascorrere il mio tempo qui. L'atmosfera, le persone, ogni cosa è perfetta. Dunque sono un po' triste di dovermene andare, ma sono davvero felice di rivedere la mia famiglia. Qual è stato il tuo programma qui a Livigno? La prima settimana ho portato anche la mia famiglia qui. Abbiamo fatto molto trekking nelle montagne con i bambini e ci siamo rilassati un po' tra un allenamento e l'altro. Mentre nelle ultime due settimane ho fatto solo canottaggio, ho mangiato e dormito. Un buon posto per tornare? Sicuramente tornerò a Livigno. Cosa ti piace soprattutto qui? Il cibo, la gente o lo shopping? Non sono un amante dello shopping, mia moglie lo è, ma mi piace il cibo e l'atmosfera, le persone e le numerose possibilità per allenarsi e fare cose divertenti. C'è ogni cosa qui a Livigno. Qual è il tuo segreto dopo così tante Olimpiadi? Si tratta di fare qualcosa che ami davvero. Quando ti diverti non pensi a ciò che fai nel lungo termine. È stata dura, ma anche molto bello. Amo il mio sport e mi piacciono i miei compagni di squadra. Loro mi hanno reso una persona migliore, un atleta migliore. Dunque sono solo fortunato perché il mio corpo regge ancora. Io sono un migliore personale, un migliore atleta, quindi sono solo fortunato che il mio corpo miglioro ancora con l'amore che mi ha fatto.